Let's play Gli Steve non sono froci di natura Ok lo vuoi capire Eh Che schifo Allora ragazzi siamo ritornati Qui sulla Pixelmon dopo quante sono 15 giorni Scusate cercheremo di ampliare Il numero di video della Pixelmon sappiamo Che vi piacciono Che cosa faremo in questo episodio Chi l'ha indovinato Chi l'ha indovinato Chi lo sa Con chi parlo Secondo me sti due hanno chiamato Sì Andiamo a vedere Oh c'è l'uovo Come ha fatto a crashare E' crashato Sprike Vabbè ora rientra No è crashato Sprike Oh mio dio purema Ora crasherò pure io 3,2,1 Dai crasha Non crasho Sì i due Pokémon Hanno chiamato Dopo C'è voluto un bel po' di tempo E ci hanno dato un bello vetto Sprike Continua a crashare Ma che cavolo stai combinando No io ti vedo volare Fai slash spawn Sì l'ho preso L'ho preso Ce l'ho nel computer Ce l'ho nel computer Allora Qua non c'è Deve andare in spawn Oh mio dio Ho tirato un leggendario fuori Allora Slash spawn Comunque secondo me Perché È perché stava salvando Il mondo Lanfra Allora Andiamo a prenderci Questo vetto Dal computer Perché ragazzi Dopo che Dimmi ma Dimmi Allora L'hovetto Al computer Allora Al computer Io che cosa mi tolgo Cosa mi tolgo Ivisaur Sì Ivisaur E mi prendo l'uovo Allora 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 Venite a vedere l'uovo Io sono al centro pokemon Eh Venite a vedere l'hovetto I miei pokemon Hanno chiavato Sì Ah ma non lo posso selezionare No Ve lo volevo far vedere E non posso Allora Praticamente Passando Cicco Cioè Cliccando con destro E andando Summary Mi fa vedere Quanto tempo Ci vuole Finchè L'uovo Si schiuda Esatto No è tempo Mi sa Passi Perché Non mi dice niente Oh Mi devi dire What will Latch from this It doesn't seem Close to action Ah ok Quindi ti da una frase In base alla quale Più cammini Più l'uovo Si dovrebbe schiudere E al momento Dice che Siamo molto Ma molto Ma molto Ma molto Lontani Da farlo Schiudere Beh no Sì Infatti No Allora Facciamo una cosa Ragazzi Dobbiamo trovare Il pokemon Com'è che si chiama Diglett Quello neutro Quello neutro Come si chiama Lo ricordate No L'abbiamo detto La volta scorsa Ditto 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 Bravo Ditto Allora ragazzi Si è stoppato il video Perché mi sono spostato Sulla wiki Praticamente ho trovato Che ditto Cresce nella savana E Cresce di giorno E praticamente Siamo nella terza città Oasi Dove dovrebbe crescere Cioè Crescere Vabbè Spawnare Ditto In particolare Abbiamo fatto Slash Ditto E mettiamo Ok In questo modo Il Il Diciamo La mod Come si chiama Sta mod Oh mio dio Mi sono dimenticato tutto No La rimima Qui il radar Quello là Che ti trovi Leggendari Ora si Ema Ora si Ora si E insomma Dobbiamo aspettare Che viene il giorno Regà E intanto Ci Dove Arrivo Andiamo Dove stai Così Che devi fa Vieni No Vieni Noasi Vieni Noasi Dove stai Oasi Vuole due Leggendari Aspetta Che moglie Le do Guarda Oasi Viene al centro Pokémon Ciao Ema Ciao Ma quanto Sei bello Però Allora Che cosa Allora Ti devo Ma che palle E Che devo fa Si sente un po' di bordello A casa tua Ema Allora Ora so se Si raga Però Mi state facendo impazzire Una a destra Una sista Io dove cazzo vado Allora Di qua Oh mio dio Chi mi ha attaccato A uno Shinks Una Jinx Arrivo Ema Allora Andiamo Oh ma che è sta roba Che sta qua Ema Che figo Che Ma eccolo Da dove siamo partiti Ci sta una costruzione Fighissima Ci sono Ema 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 non parla più Allora Intanto sta arrivando giorno Raga Quindi Intanto sto facendo Schiudere pure l'uovo Oh 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 Aspetta Aspetta Sto seguendo Ema Una cosa per volta E no Non ho capito Che stai cercando Onesto eh Ho ricevuto una mail Chi mi ha mandato una mail? In questo momento Mi hanno mandato una mail C'è qualcuno collegato? Arrivo Aspetta 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 Mi sto bloccando Aiuto Porco zio Ok Ok Eh E' quella costruzione Che ti dicevo prima Ah E' un allenatore Che cos'è? Oh mio Dio Che cos'è Sto coso Che cos'è sto coso? E' Stiamo a coordinate Meno 1556 Eh 70 Oh mio Ti ha ucciso tutti Vabbè Io c'ho C'ho il leggendario Chiogre Sì c'erano due Vabbè Il leggendario Chiogre È d'acqua Eh ma Cioè Vabbè Appunto Allora Hai perso Hai perso Proviamo Allora Arcanine Ah A me è di livello Perché a me è di livello 90? Ah vabbè Perché tu c'hai Charizard Livello 100 Charizard Allora Acquaring Watersprout Watersprout Vediamo un po' Insomma Sti cazzi Ah no L'ho killato L'ho killato Sì 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 Sto soltato Aspetta Che mi stanno evolvendo i pokemon Il bordello sta succedendo Power Michia zio Non lo voglio Sto coso Do you want Sì 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 Give up Beh Poi Chi viene Embore Che cos'è Embore Eh ma È fuoco Ok Ah perfetto Mori Perfetto Morto Questo è dark GW Vabbè uso psichic Tranquillo 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 uso psichic Gli spacco il culo Gli spacco il culo Mi ha fatto un cazzo Stavo per morire Ok A posto È morto È morto Tranquillo Earthquake Tranquillo Oh mio dio Mi ha killato Ma che il lato Chi ogre Ma che il lato Chi ogre No Allora Fai questo Vai Uccidilo Bene Sì Buonanotte Questo mi fa il culo È ok Ancient power Fagli Madone Ciao Mi sa che perdo Mi sa Mi sa che perdo Speriamo che va in porto Sta mossa Sono morto Che cosa posso usare Schermoni Boh Ci provo Madonna questo è troppo tank Che cazzo uso È solo che chi ogre Me l'hanno massacrato Ma che è Ma che è sta roba Cioè sta roba qua Non l'hai scoperto ancora Vabbè Ammazza È l'allenatore Della palestra Oh mio dio Allo 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 Io Mi vado a curare i pokemon Ci ritorno A cagare vai A cagare Siamo E sì Tanto dobbiamo far Schiudere quel pokemon Intanto dobbiamo trovare Pure ditto Allora No vabbè Ho trovato qua Ho trovato No perché Perché dobbiamo andare allo spawn Devo curarmi i pokemon Warp Spawn Ok Ok Sì vabbè Faccio il video da solo Ho capito Dove stai Dove stai Cioè Ragazzi C'è Sprike Che mi manda le mail Puzzi Ma vai Ma vai a cagare Puzzi tu Pumami Ti di puzzi in culo Eh ma Che dobbiamo fare Devo venire nella prima città Allora Guarda Spawn Non smetti di mandarmi le mail Allora Sì sta arrivando Ho capito Mi sei bloccato Forse crash Ho crashato No forse no Zit Zit Sono in bilico Sono in bilico Tra Sono nell'oblio Tra la morte E la vita Tra la vita E la morte Beh E decidi Sono vivo Sono vivo Sono vivo Sì ma guarda sto pirla Che mi tira i pokemon addosso Ma vai a cagare Allora Ema Che dobbiamo fare Vai Ok Vai Beh Sì Allora Beccati questo Posso Eh Ok A posto Non ho più Ok Sì sì infatti Aspetta che intanto Vediamo l'uovo Minchia Quanti passi deve fare Però Cioè Cioè ragazzi È lunga Ancora Cioè ancora non mi ha detto niente Pensa un po' Spero Che Vada avanti Anche volando Spero Perché se no è veramente un problema Allora warp Oh sì Andiamo a fare quella palestra Allora È a sud Con O mi sa Cioè aprila E premio O P O O O P Cioè O P O P O P Sei O Sei O P Ma l'hai trovato Ditto Ciao bello Hai trovato Un ditto L'hai trovato Ditto Hai trovato Un dildo Un dito E che cazzo è Ecco Arcanine di livello Come che cos'è il dito Cioè ma Ma che cazzo di pokemon Mi ha dato Ma è un deficiente Ma io ho perso Cioè che cavolo Gli facciamo a questo Ma magari Che facessi cacca musciata Cioè non ci credo Non ci credo Vabbè Sì Ciao Eh si può scappare Run Grazie Run Devo andarmene Voglio andarmene Ma porco Zio Porco Ammazza Ste schifezze C'ho solo un pokemon D'acqua Come faccio Porca Puzzola Ah dai su Ha morto Mi ha lasciato pure senza pokemon Quello E se ne è pure andato Vabbè Sì No ma tranquilli Vai wing Sì vabbè Ciao Ha morto Tor terra Sì Mi ha dato pure un tor terra Senza vita No ma GG A posto Niente ragazzi Allora Sprike Penso che dobbiamo chiudere il video E nel frattempo cerchiamo sto benedetto ditto E vediamo se riusciamo a far schiudere sto uovo Io intanto me lo tengo con me Di ditto con due t Ok Intanto vi salutiamo Vi ringraziamo per aver visto questo video Passate a trovarci su facebook Google plus Twitter Siamo un po' ovunque E ci vediamo nel prossimo video Mi raccomando ragazzi Si polliciate Commentate Se volete vedere Nel prossimo video Che battiamo con la palestra Speriamo di farcela Ciao